Ancora un'altra interruzione idrica nel weekend in città, questa volta Caltacqua nella giornata di sabato 17 dicembre ha comunicato una chiusura di tutte le zone servite regime di H24, mentre la distribuzione è stata garantita in tutte le altre aree come da programma e in modalità H24 per ospedale e carcere. Il fornitore di sovraambito siciliacque ha comunicato nel pomeriggio per le vie brevi, si leggeva nella nota del 17 infatti, che a causa di un guasto lungo la duttore Ancipa ha nuovamente dovuto interrompere la fornitura ai comuni di San Cataldo, Caltanissetta, Mazzarino, Riesi e Butera. E così nella giornata di sabato è stata stabilita una nuova rimodulazione della distribuzione idrica per le utenze dei comuni interessati. A San Cataldo interruzione totale, a Mazzarino slittamento nella distribuzione di 12 ore rispetto alle turnazioni programmate, nessuna variazione a Riesi e interruzione nelle zone balneari a Butera.